Leonardo Candellone, tu hai il gol da tre punti, quanto vale? Diciamo che vale tanto per il momento, per la classifica soprattutto e per il morale, poi è venuta da comunque una partita che sembrava sotto controllo e poi alla fine il calcio è questo, gli episodi possono ribaltare la situazione, però siamo stati bravi secondo me a non mollare e a crederci fino alla fine che potevamo portare a casa il bruttino pieno. Primo tempo perfetto, in cui c'è molto di tuo, prima l'assist per Brusca, poi il gol e poi quell'episodio che può cambiare la partita. Sì, sicuramente penso che siamo partiti bene a livello caratteriale, a livello agonistico, magari un po' meno a livello di gioco, però era questa la partita che avevo in mente, che volevano fare, cioè quello di aggredire alto, andare magari sulle seconde palle, essere magari un po' meno bellini, però arrivare su tutti i contrasti e cercare di vincere la partita. Poi ovvio che nel calcio così si può vincere alla fine, vedi noi con la Triestina, l'episodio cambia poi la partita, però siamo stati bravi a, secondo me, rimanere lucidi. Alla fine in 45 minuti tolto il rigore non abbiamo preso il rinporto, quindi secondo me abbiamo fatto un'ottima prestazione che ci deve dare morale per il proseguio del campionato. Peccato non l'averla chiusa che ci sono state due o tre situazioni. No, sicuramente la pecca è stata quella perché poi alla fine, come è successo magari altre volte, vedi Albino Leffe che abbiamo preso gol all'ultimo minuto, non si sa mai nel calcio, quindi è meglio sempre chiudere le partite, però oggi ci prendiamo questi tre punti e siamo contenti così. Hai superato con il gol e l'assist la doppia cifra di giocate importanti, diciamo quindi sei reti e cinque assist, aggiorniamo un po' lo score, insomma sei contento? Sì, sì, no, sicuramente a livello personale sono contento, poi il campionato è ancora lungo, spero di segnare ancora un po' di più. Di arrotondare? Sì, dai. E a chi dedichi questa retta? Alla mia ragazza. Comunque insomma ogni partita una battaglia, il Pordenone ha dimostrato di esserci, anche con lo spirito. Sì, no, diciamo che l'input che anche il mister comunque ci aveva dato era quello di essere un po' più cattivi, un po' più battaglieri sulle seconde palle, a livello agonistico diciamo, tra virgolette. Magari anche essendo un po' meno belli a livello di gioco, però secondo me la Serie C è così, per vincere devi mettere qualcosa in più a livello agonistico dell'altra squadra e secondo me oggi l'abbiamo fatto. Domenica ci sarà un ulteriore banco di prove, insomma si andrà a Padova, è una bella partita, una bella connessione in pubblico, sarà bello giocato. Sì, sì, sicuramente. Adesso ci godiamo queste vittorie, poi da martedì iniziamo a pensare al Padova, che lo conosciamo, è un'ottima squadra, sarà una bella partita.